Buone notizie per la fabbrica del Carnivale. Assessore, avete ottenuto un ulteriore finanziamento? Era un finanziamento a cui lavoravamo da un po' e del finanziamento ottenuto tramite il GSI, che è il gestore dell'energia. Vediamo che per tutti gli immobili pubblici che operano azioni di riqualificazione energetica con coibentazione o cambio del suo generatore di calore o cambio degli infissi, è possibile richiedere un finanziamento che parte da un 60% fino a un 100% nel caso di alcuni determinati tipi di immobili. Lavoravamo da tempo al progetto della fabbrica del Carnivale, che già ha vinto un grosso finanziamento, per riuscire a sommare anche questo riconoscimento e ci siamo riusciti per una somma considerevole pari a 408 mila euro. Quindi siamo molto soddisfatti. Qual è nello specifico l'intervento previsto per il Sant'Arcangelo? L'intervento del Sant'Arcangelo già prevedeva, prima che partisse il progetto di efficientamento energetico che poi ha previsto anche la nomina dell'energy manager, una riqualificazione dell'immobile del Sant'Arcangelo. Quindi il cambio degli infissi, la coibentazione delle superfici disperdenti e soprattutto il cambio del generatore dalla caldaia a una pompa di calore. Prevedeva in realtà un discorso ben più complesso che trasformava l'edificio in nzeb, che vuol dire a consumo quasi zero. Ecco, si trattava di sistemare alcuni aspetti in modo tale da essere compatibili con questo tipo di finanziamento. Quindi l'intelligenza da parte dell'amministrazione del progetto di efficientamento energetico è stato proprio quello di prendere una cosa che già era molto buona e aggiustare quelle cose, riguardare dall'inizio alla fine tutto il processo in modo tale da poter accedere a questo finanziamento. Perché a volte, conoscendo le cose, con poco si può ottenere tanto. Per quando è prevista la fine dei lavori? Il cantiere finalmente, dopo due anni di fermo, a causa di ricorsi che sono stati fatti al Comune di Fano che il Comune di Fano ha vinto, però ci ha portato via due anni, è riuscito a riaprire il cantiere e si prevede la fine dei lavori all'incirca dopo, fra due o tre anni. Stiamo accelerando, la ditta si sta dimostrando molto seria, siamo contenti e quindi speriamo di andare più veloci possibile.